Industria 4.0 significa che anche l'industria più hard, più dura, più pesante può diventare smart, intelligente, flessibile, digitale. La Manini di Assisi, nata nel 1962, 500 dipendenti prefabbricati di dimensioni monumentali per l'industria, la scuola, i centri commerciali, il direzionale, ha messo a punto il primo sistema brevettato di analisi e monitoraggio integrato di edifici prefabbricati, in grado di rilevarne le condizioni ambientali e strutturali in tempo reale. Installati nelle fasi di nuova costruzione o di ristrutturazione di edifici esistenti, i sensori del sistema CONNET consentono di far arrivare ad un'unica centrale di controllo tutti i dati relativi alla sicurezza, all'efficienza, all'energia, agli imprevisti che concernono gli edifici, dalle scosse sismiche alle avverse condizioni atmosferiche, dagli incendi all'invecchiamento delle strutture. Molto spesso mancano le informazioni, noi cerchiamo di raccogliere le informazioni perché, come ci insegnano i social network, Facebook oppure i big data, i big data sono quello che ci permettono di poter intervenire nella maniera più diretta e sicura. Insomma, l'industria pesante per eccellenza si sposa con l'immateriale, il cemento armato con il digitale, con CONNET si conoscono minuto per minuto lo stato e le esigenze dell'edificio, un po' come avviene per il conducente dell'auto avvertito dalle spie del cruscotto, delle necessità di benzina, di acqua, di olio, di revisione. Noi vogliamo aiutare i nostri clienti a cercare di gestire al meglio l'immobile, ma gestirlo con razionalità e con una programmazione che permette sicuramente una maggiore durabilità e soprattutto un controllo anche dei consumi dell'immobile, perché l'immobile consuma.